Sarà Claudio Gavillucci di Latina a dirigere l'incontro di sabato pomeriggio del Pescara contro il Brescia coadiuvato dagli assistenti Marinelli di Iesi e Ciancaleoni di Foligno. Il Pescara non si nasconde, cercherà il colpaccio contro un Brescia ferito dagli ultimi deludenti risultati nell'ambito di una stagione complicatissima ma promette la partita della vita. Parola dell'ex di turno Ivo Iaconi. L'attaccante Mascara anche oggi non si è allenato, vittima di un colpo alla schiena rimediato nell'amichevole di ieri. Per domani però dovrebbe farcela, mettendo la firma dunque sulla sua presenza al Rigamonti. Il portiere Pelizzoli ha svolto ancora differenziato e dunque a Brescia tra i pali dovrebbe giocare ancora una volta a Belardi. Probabile che Ragusa sarà preferito in attacco a Caprari al fianco di Sforzini con Mascara a centrocampo davanti agli altri due. Out Schiavi e Rossi Zuparic arretrerà in difesa a centrocampo il ballottaggio tra Bovo, Nilsen e Rizzo.